La cooperativa Il Mago di Ozzi di Spinadesco dal 2018 svolge un ruolo fondamentale, cioè quello di aiutare le persone che stanno affrontando problemi dovuti alle dipendenze di droga, alcol e sempre più spesso anche ludopatia. Il direttore responsabile Marco Lanzi ci spiega che ci sono due percorsi distinti tra loro. La pronta accoglienza è un servizio che accoglie persone per riuscire a garantire un periodo di pause di astensione per rimettersi in sesso dal problema. Si garantisce questo periodo di 90 giorni, 3 mesi, è un periodo limitato, però si riescono a ottenere buoni risultati. Il nostro lavoro va proprio nella direzione di riuscire a indirizzare il ragazzo, in base alle proprie caratteristiche, con la comunità più idonea. Centro di Urno è un percorso invece completamente diverso, è una struttura semiresidenziale, per cui non c'è tutta la parte del notturno. Queste sono persone che vivono nei contesti territoriali di Cremona e provincia, vengono qui durante il giorno dalla mattina alle 8 fino alle 4 e mezza e hanno contenio e sostegno sia educativo sia psicologico. Tra i ragazzi che frequentano il centro abbiamo avuto l'occasione di conoscere Emanuele, che ci ha voluto raccontare brevemente la sua storia. Dopo vari percorsi andati male, con la mia ragazza, appunto, che io ho fatto anche dei percorsi di coppia, sono arrivato al punto di dire a 29 anni, se non ce la faccio adesso a tirarmi fuori da anche problemi penali e dalla droga, non ce la faccio più, cioè, o lo faccio adesso o mai più. E quindi sono entrato perché lo voglio fare davvero e voglio appunto farcela e arrivare alla comunità di coppia con la mia ragazza, che anche lei a breve entrerà in una struttura. Facevo uso di cocaina, eroina e anche droghe sintetiche, andando a ballare ai rave, alle feste, MDMA, LSD, chetamina, un po' tutto. L'associazione comunque in questo momento ti sta aiutando tanto? Mi dà forza, mi sta dando forza e motivazione. La dipendenza è però una malattia cronica, recidivante e quindi, qualche volta, può capitare di rivedere volti già noti. Bisogna tenere presente che la dipendenza è stata definita da parte dell'OMS una malattia cronica recidivante, quindi con tutti gli aspetti legati alle possibili recidive, quindi legati alle ricadute nell'utilizzo di sostanze. Sono stati in questi, diciamo, tre anni di utile.